Mauro Gambetti, custode del Sacro Convento di Assisi e Cardinale, lo ha annunciato durante l'Angelus Papa Francesco. Il Pontefice ha comunicato il nome di Gambetti tra 13 nuovi cardinali. Il primo commento del Cardinale Gambetti è stato Schersi da Papa, accolgo con riconoscenza e gioia questa notizia in spirito di obbedienza alla Chiesa e di servizio all'umanità in un tempo così difficile per tutti noi. Affido a San Francesco il mio cammino e faccio mie le sue parole di fratellanza. Un dono che condividerò con tutti i figli di Dio in un percorso di amore e compassione verso il prossimo nostro fratello. Innumerevoli i messaggi di agurio e di congratulazioni. I primi dai Vescovi dell'Umbria che hanno ringraziato il Santo Padre che ancora una volta dicono ha guardato benevolmente alla nostra regione chiamando il custode del Sacro Convento di Assisi a far parte del Collegio Cardinalizio. Esprimo gratitudine al Santo Padre, ha detto il Cardinale Bassetti, per aver chiamato sei confratelli nel sacerdozio ad aiutarlo nel servizio alla Chiesa Universale. Le chiese che sono in Italia affidano al Signore, ha concluso Bassetti, i nuovi cardinali. Congratulazioni anche dalla Presidente Tesei. Ho avuto più volte modo di incontrarlo e confrontarmi con lui e di apprezzarne le profonde qualità umane e spirituali. Sono certa che come in questi anni alla guida della comunità francescana del Sacro Convento saprà svolgere al meglio questo nuovo Ministero della Chiesa. Ringrazio Padre Gambetti, ha concluso la governatrice, per quanto ha fatto per la nostra comunità per la quale è sempre stato prezioso e invio a nomi di tutti gli Umbri il più sincero augurio per questo importante incarico.